casa chiudo quella porta c'è un calo di tensioni qua si sta in pace madonna nella coerenza se potessi non mi avete lasciato essere ospitale sono sempre stato devo mettermi a lavorare a caricare i video se no è un casino poi è importante che siano più vicini possibili a qui ed ora ho appena chiamato anche i carabinieri gli ho detto di andare a vedersi i miei video che lo sto facendo da un po' basta che mi vengono a scassare i maroni in strada con delle cagate spaziali quando che io ho già detto tutto esposto tutto a venirmi in strada a non ascoltarmi quando che sta tutto lì la questione, devo ricominciare da capo in condizioni di nervi impossibili poi vengono chiamati apposta quando sono che non ce la faccio più che vedono lì invece della realtà dell'uomo massacrato gli viene presentato ah eccolo è lui è lui è sempre così sempre non è vero una volta due anni oggi niente e niente se io mi comporto normale parlo del più del meno e sto normale mi arriva il nulla totale cioè violenza cronica cronica sempre ovunque mi giro da anni e anni anni e anni e anni no? che mi giro verso la famiglia e hanno ragione loro e ci sono e mi danno tanto amore loro poverini gli aggrediti dove cazzo stanno? questa volta l'altra volta l'altra volta cacciato di casa 19 anni io ho cominciato a farmi tutto da solo e è andato via da una casa che non ho mai potuto considerare casa mia cioè sto cercando una casa dai 20 anni ragione per la quale non sono riuscito a portare avanti i miei studi a Venezia che era tutto incoerente e l'ho lasciato per lavorare io completamente scassato non riuscivo a mantenermi un lavoro con tutta l'incoerenza familiare che ci avevo addosso da giovane che non riuscivo ad andare con le ragazze mi sentivo in colpa per l'educazione sono l'esatto opposto per nascondere l'inibizione sessuale atroce che mi è stata fatta che mi si continua a fare che è stata addestrata alla società a farmi a togliermi tutto l'amore delle femmine togliermi l'amore di mia mamma togliermi l'amore di mia sorella togliermi tutta la famiglia togliere 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 questo sono io il prodotto di una violenza estrema è cronica è familiare e mi sono proposto da più di decenni a risolvere a dover reagire a forza fare qualcosa mi lascio trattare così che sto vivendo in un posto peggio di un carcere per la manipolazione perché si stanno facendo tutte le cose in maniera totalmente illegale nei miei confronti cazzo è sta roba se voi vi comportate come dei criminali io mi comporto da buona persona per forza che non posso fare niente e vengo instigato a reagire anch'io con un crimine per poi voi nascondere il vostro questo mi viene fatto da sempre ci sono abituato e gli voglio togliere questi cazzo di video di youtube se si comincia a parlare in maniera normale io ho portato pazienza fino a rasentare la morte per davvero che non li stavo facendo proponendomi bene ed aspettando di parlare con qualcuno proponendomi alle donne adulte a parlare e niente via partito il massacro prima che arrivavo qua cioè metodi di calunnia di manipolazione e di persecuzione bisogna andare alla fonte sono obbligato per forza di cose se non voglio dare la colpa al mio intorno sono obbligato ad andare alla fonte a questa maniera disintegrandomi la vita io vengo obbligato dalle manipolazioni andare a vedere di risolvere la questione a monte vengo obbligato a parlare della famiglia io la lascerei là mi sto cercando la mia ho le palle per farmi la famiglia mia mi viene disintegrato di proposito se viene fuori che sono una brava persona che sono lavoratore che sono lucido che sono gentile che sono una persona dolce e affettuosa si fanno una figura di merda per questo mi fanno perseguitare perché il crimine che ricevo io per antonomasia mi mi e non anche se io lascio stare loro loro non lasceranno stare me vengo obbligato a fare cose che la mia mente il mio intento nella realtà va da tutta un'altra parte va a farmi una vita a lavorare a farmi degli amici cazzo mi fate sto massacro umano e continuate avanti basta cominciamo a parlare in una maniera normale sono disperato massacrato e sofferente ragazze non il deficiente il pazzo guarda qua adesso a lavorare per la violenza a caricare video a difendermi e a fumare ancora gli ultimi giorni sono talmente disperato che non ce la faccio più del vostro comportamento di merda che me ne resto chiusi in casa al mattino non vado neanche a prendermi il secondo che fa leggere il giornale che me lo fate è un inferno in questa maniera apposta continuando e continuando e continuando ad accusare me a guardarmi male oh solo sto vivendo solo di questo ve ne rendete conto della mancanza di rispetto monumentale che esce una persona di una casa con delle sofferenze atroci voi lo trattate così un uomo da solo che vede di farsi una vita facciamo finta che prendiamo per il culo ma che cazzo è sta roba cosa dimostrate così c'è una persona che ha un minimo di cervello e si rende conto che questo tipo di atteggiamento è da persone molto piccole buon karma queste sono le mie giornate adesso a lavorare perché mi viene tolta la comunicazione normale e vengo trattato a pesci in faccia dalla mattina alla sera come cazzo fa a vivere una persona così che mi state togliendo le forze di fare qualunque cosa la vigliaccheria di togliermi la forza è vitale di reagire merda umane come che che fa i potenti col popolo di schiacciarlo giù e poi fare quel cazzo che vi pare oh no sono forte sono in piedi e non mi va bene a me questa roba qua buon karma a me a me Grazie.